Sicuramente abbiamo visto la partita, quella che è stata contro Milano, abbiamo visto che davvero per pochi palloni poi i set sono andati al loro favore e quindi abbiamo iniziato la settimana lavorando per migliorare quelle situazioni che ci permetteranno poi di dimostrare il nostro vero valore. Secondo me c'è da salvare e non c'è poco, sicuramente abbiamo lavorato molto bene in monodifesa e sprecato un po' più nel controattacco, abbiamo lavorato bene in cambio palla, quindi siamo entrati in palestra carichi per quelle palle, quei dettagli che fanno quella differenza tra la vittoria e la sconfitta, farli venire a nostro favore. Sicuramente da limitare sarà Kovacevic che ha tutti i colpi, è un grandissimo giocatore, il muro di Lisinac assolutamente centrale tra i migliori interpreti del mondo e poi comunque è un organico assolutamente completo, quindi un po' tutti sono degli ottimi giocatori su cui dobbiamo lavorare nel miglior modo possibile.